Vediamo insieme come fare il plank, quindi cerchiamo di rimanere in linea per tutta la durata dell'esercizio, dalla testa ai piedi. Questa qua è la posizione da mantenere, cercando di lavorare bene con gli addominali e lo sguardo è rivolto a terra verso le mani. Se andiamo in crisi possiamo andare ad alzare il sedere, in questo modo gli addominali continuano a lavorare. L'importante è non perdere, perché se li perdo vado a fare questo e vado a caricare la schiena, ok? Buon allenamento!